Ciao a tutti e ben ritrovati, io sono Matteo Rossi. Oggi suonerò un modello di Telecaster completamente customizzata da Liutaio Angelo Olivetti. È un modello a 21 tasti. Devo ammettere che subito non mi sono trovato benissimo per la forma del ponte, al cui non sono abituato, semplicemente per questo motivo, perché poi mi sono abituato abbastanza rapidamente e l'ho notato addirittura più confortevole che non con altri ponti. Probabilmente per questa forma un po' accentuata del bridge. Nei video che registrerò cambierò velocità spesso, proprio per permettere di capire che invece i punti di riferimento che sono riuscito a trovare sul ponte sono diversi e permettono di muoversi in modo trasversale sulle corde in modo molto agevole, dando comunque pulizia negli spostamenti. Pur essendo dotata di un solo microfono, basta e avanza. Ha una potenza impressionante. Nei video ho riportato sia la sonorità su un suono clean, leggermente sporcato, sia su un suono particolarmente carico di key. Noi, 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 noi. Noi, noi, noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.